Ciao a tutti, io sono Francesca e questo è Acquarelisti allo sbaraglio, il canale dedicato principalmente alla tecnica dell'acquarello. In questo canale troverete riflessioni, esercizi, informazioni, consigli sulla tecnica dell'acquarello e non solo, raccontate da me che mi sento un po' un'acquarelista allo sbaraglio. Video molto brevi da ascoltare e guardare in qualsiasi momento come una pausa caffè al bar con un'amica. Obiettivo di questo canale è condividere la mia passione ma anche creare un luogo di scambio e confronto con tutti gli appassionati. Per cui se anche voi vi sentite degli acquarelisti allo sbaraglio o semplicemente volete raccontare le vostre esperienze, questo è il canale giusto. Se volete guardare i miei lavori vi consiglio di dare un'occhiata alla mia pagina Facebook o al profilo Instagram semplicemente Acqua e Colore, lascio il link in descrizione. Se la presentazione vi è piaciuta mettete un pollicione in alto e iscrivetevi al canale. Ciao!